Ok raga, ci risiamo, ci facciamo l'ennesimo video pool, le crono sono, devo dire, calate, sono partito da 93-94.000 a inizio, diciamo, della seconda parte dell'anniversario, quindi all'uscita dei banner e niente, spero sinceramente di non decimarmele perché vorrei un'altra copia di piccolo, ma vorrei soprattutto tenermele per la Ultra che, mi aspetto, mi porterà via qualsiasi cosa facciamo solamente un giro oggi perché sennò veramente mi trito in una maniera incredibile, facciamo un giro, vediamo come va e spero una copia, mi serve una copia di questo personaggio e poi riparto all'accumulo compulsivo. Partiamo! Ok, direi brutta storia perché cielo verde e una pod è veramente brutto, veramente... perdiamo addirittura, addirittura perdiamo, va bene pool blu, freezer che dice mi hai rotto le palle e clash nel mezzo che abbiamo già capito, non ci porterà niente ok, ehi, ehi, un bel fake out subito un Majin Buu del 1500 va bene doppio Krilin, doppio Krilin, cioè addirittura doppio Krilin in salse diverse, va bene ok, partenza direi puzzolente, direi non profumata andiamo direttamente con la 700 ci serve Orange Piccolo una, una copia di Orange Piccolo oh, potrebbe starci? Cielo Rosso, tre pod Vegeta arriva e dice ci penso io, però ti toglie un po' la speranza, eh, te la toglie un po' la speranza perché non diciamoci cazzate, Vegeta sì, ok, Sparking d'accordo, però cielo rosso, magari uno si aspetta un Bardaccone, si aspetta... e invece arriva Vegeta, insomma vediamo Vegeta per cosa è arrivato e se è degno di Flame, oppure se è degno di rispetto vediamo cioè, Vegeta ha tolto Bardacc dall'animazione per darcelo qui va bene andiamo avanti, Extreme o Superiore chiaramente vogliamo Orange Piccolo raga, mi serve una copia di quel personaggio mi serve una copia di Orange Piccolo mi serve una copia datemela, datemi quella copia Tai Pai, Tai Pai nooo no raga, Vegeta ha interrotto Tai Pai vediamo se Tai Pai influenza positivamente Vegeta vediamo andiamo avanti perlomeno ce l'avevo a 3 stelle, però non è quello che stiamo cercando va bene, Ub fra l'Extreme accettabile accettabile anche questa Tai Pai ti prego, Orange Piccolo ciampa ciampa non l'ho mai potuto vedere questo personaggio Orange Piccolo è qui! Gohan, va bene mi stai spammando questo Gohan in una maniera incredibile vorrei quel cazzo di Orange Piccolo è possibile avere una copia di quel personaggio? cioè Gohan l'ho veramente cioè, buh, 3 plus, va bene va bene, buh più che sufficiente non serve essere stellato ulteriormente andiamo con il quinto step povere le mie Crono, povere le mie Crono mamma mia mi serve una copia di Orange Piccolo per favore, dai, per favore per... Tai Pai! Tai Pai Super Saiyan Blue raga, quando vedo Tai Pai se avete visto i video pool scorsi saprete il motivo quando vedo Tai Pai sono sempre contento dai Tai Pai insegna a questo Goku come trovare Orange Piccolo vediamo Broly Broly con Tai Pai Broly ti prego ti prego Broly con Tai Pai dammi, dammi Orange Piccolo non mi scammare non mi scammare per favore non mi scammare per favore che tanto mi scammerà la Ultra non mi scammare Broly Broly sei uno dei miei top personaggi Tai Pai, mio padre Broly, non mi scammare per favore Broly, non mi scammare Broly, non mi scammare Broly, non mi scammare Broly, non mi scammare Vados va bene raga, so che non è lui, dai non è lui no lo sapevo e non era lui perché questo trance mi perseguita perché questo trance mi perseguita raga e va bene va bene che depressione però che bruttura quando esce l lf sbagliata dai orange piccolo radish e 6 plus per quel trance che ne facevo a meno andiamo con la frima ho beccato ora la lf non la becco un'altra lf dai non la becco però taipai ha portato l'lf dai forza taipai un'altra volta taipai taipai un'altra volta toshy regalami questo orange piccolo maledetto toshy spazio una pod cioè arriva lo spazio ti prende bene una pod ti deve già già far calare l'hype perché una pod sola calmo ti dice calmo lì non trovi un cazzo calmati pull oro avrei preferito un pull arcobaleno super saian freezer che è lì con la diarrea fulminante che cade allo spazio e quindi c'è piove dappertutto orange piccolo ti prego no un altro trance che mi perseguita questo trance mi perseguita o lui o le sue le sue copie guldo basta per favore la depressione nel trovare un fatbu no grazie no grazie dammi sto è il gamma che da qui non poteva uscire però questo gamma direi basta direi basta e direi che non è andata benissimo soprattutto per quel trance peccato raga come stiamo messi con le medaglie 21 a questo punto penso di arrivare a 30 e mi prendo la multi z power e poi con la copia gratuita lo porto a 6 e vaffanculo penso oppure mi faccio i ticket non lo so ditemi voi ditemi voi dai facciamo no raga non lo so non lo so perché sto scendendo veramente tanto vero che ne ho ancora tante però a forza di dire ne ho ancora tante è il modo in cui poi le finisco quindi sarei tentato anche dai ticket ma vedendo come mi hanno scammato l'ultima volta sarei quasi più tentato di andare per la multi z power lf e più prendermi la copia dell'evento siccome l'ho già trovato una volta se avete visto gli altri video pool quindi me lo porto a 6 e mi accontento in quel modo forse la scelta più saggia magari forse la scelta più saggia andare sulla prudenza e non sui tentativi vabbè ditemi anche voi comunque in ogni caso lasciatemi non vi do traguardi dai se volete se mi volete bene se mi volete bene lasciate 500 like in ogni caso